Era una partita molto difficile, molto in salita, lo diceva il distacco del primo turno, oltre 12 punti, che era veramente molto complicato colmare. Abbiamo fatto una campagna elettorale che ha visto una disgregazione anche del centro-sinistra. Non è un caso che l'elettorato di centro-sinistra che ha sostenuto Eugenio Gianni nella città di Arezzo poi non ha coinciso con quello che ha sostenuto Luciano Ralli, perché c'era un candidato autonomo come Marto Codonati molto forte che ha fortemente indebolito il perimetro del centro-sinistra e mi verrebbe da dire che probabilmente ha avvantaggiato indirettamente anche la riconferma di Ghinelli. Questo però ce lo diranno le analisi dei flussi elettorali. Mi sembra che la città di Arezzo abbia scelto la continuità, la continuità amministrativa, la continuità anche di un sindaco che, al pari di tutti gli altri sindaci che hanno gestito l'emergenza Covid nei comuni che sono andati al voto, sono stati riconfermati. Un sindaco però che al primo turno ha avuto meno consenso rispetto a quello atteso. Tutti pensavano che avrebbe vinto al primo turno. invece la Ceccardi, candidata alla presidenza della regione, ha ottenuto il 49,1%, lui Ghinelli il 47%. Era molto complicato, non si è innescata sicuramente una redistribuzione dell'elettorato nel ballottaggio e non possiamo far altro che, seppure con rammarico, prendere atto del voto democratico dei cittadini di Arezzo e augurare anche buon lavoro a questo sindaco e a questa nuova amministrazione. Alessandro Caneschi, ecco, insomma, una vittoria, indubbiamente, consolidata di Ghinelli, però, insomma, Luciano Ralli va all'onore delle armi. Sì, intanto, diciamo, rispettiamo il voto di Aretini. I Aretini sono espressi con una maggioranza rispetto al sindaco Ghinelli, quindi riconosciamo la vittoria e chiaramente il giudizio di Aretini. A Luciano devo dire un grande grazie perché si è messo a disposizione di un progetto importante e, se pensa, qualche mese fa, diciamo che il risultato raggiunto è comunque un risultato che comunque ci dà la forza per fare un'opposizione dura in Consiglio Comunale. Saremo comunque il gruppo consigliare più numeroso e quindi faremo valere le nostre idee sempre per il bene della città. Che posizione pensate di portare avanti? Quali saranno, secondo voi, oggi, insomma, i punti su cui pungolare di più a questo punto la nuova amministrazione Ghinelli? L'amministrazione Ghinelli, insomma, penso che venga fuori da un periodo non molto positivo nonostante il risultato che abbia raggiunto. Quindi la nostra posizione sarà, come sempre, sui temi, cercando di portare avanti le nostre proposte e vediamo se questa volta, questo giro, anche l'amministrazione farà sue le proposte positive che noi proponiamo per il bene della città.